ben ritrovati a tutti voi cari amici di angoli riparte una nuova settimana insieme quest'ultima che settimane ci porta davvero dritti 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 al natale un minutino per ricordarvi il nostro indirizzo di posta angoli chiocciola espansione tv punto it per restare sempre in contatto con la nostra redazione ma come dicevo nel pieno delle feste degli incontri di tutte le occasioni e soprattutto di pranzi e cene è indispensabile il nostro ospite il nostro dottor marco missaglia specialista in scienza dell'alimentazione e dietologia Marco buonasera come siamo messi questa gonna non mi entrerà più dopo le feste secondo me sì perché ha imparato in tutte queste puntate che abbiamo fatto insieme a mangiare e a conoscere quelli che possono essere davvero un po' i segreti del compensare anche quando si eccede un po' con allora sarà un periodo impegnativo questo e ci sono tutte le varie occasioni i cenoni pranzi insomma di tutto e di più come dobbiamo regolarci ma dobbiamo regolarci con equilibrio come dico sempre ovviamente non dobbiamo pretendere pensare di metterci a dieta dalla dall'immacolata l'epifania piuttosto sarebbe giusto il contrario cioè dall'epifania fino all'immacolata avrebbe un senso al di là di questa cosa bisogna mangiare chiaramente con equilibrio bisogna mangiare considerando che è anche giusto intendere l'alimentazione come un piacere quindi come una convivialità quando spesso mi capita di andare alle conferenze i convegni quando presento la dieta mediterranea non parlo solamente di quelli che sono i contenuti diciamo dal punto di vista nutrizionale parlo anche della componente della convivialità infatti la frugalità e la convivialità che erano quelle cose che avevano un pochettino affascinato Angel Case quando parlò e descrisse per la prima volta la dieta mediterranea ancora adesso vengono proposte proprio come uno stile di vita abbiamo parlato tante volte di stile di vita ebbene deve essere anche la convivialità uno stile di vita quindi è nutrimento anche stare insieme ma assolutamente sì e direi che proprio è il contesto giusto proprio oggi che comunque comincia la novena di Natale quindi siamo proprio a ben ragione proprio nel periodo in cui ci possiamo trovare appunto avere queste conviviali ma per arrivare poi al dunque che cosa insomma su queste tavole più o meno imbandite più o meno conviviali che incontreremo da qui fino alla fine di tutte le feste dobbiamo insomma assaggiare sì ma con parsimonia e invece possiamo esagerare su che cosa? Esagerare in generale su niente dobbiamo piuttosto riscoprire l'idea di gustare quindi assaporare quindi esagerare non è mai una cosa giusta come quando uno magari mangia la frittura esagera con la frittura dopo magari mi fa male il fegato o altro dobbiamo invece gustare magari rapportandoci un po' a quella che era la tradizione anche proprio delle nostre zone quindi a me piace molto anche quando parlo di alimentazione riproporre guarda caso nel contesto in cui ci troviamo quelli che erano un po' i piatti della tradizione per esempio il busecchino della vigilia Ah, perché chi rinuncia a questa cosa? Esatto, per cui l'idea della trippa che chiaramente chiesto a un medico nutrizionista non è il piatto forse dal punto di vista nutrizionale più raccomandabile però quella volta sì ha senso anche Perché non lo è? Ricordiamo Perché comunque abbiamo comunque dei grassi abbiamo di pena anche dei condimenti che possiamo mettere nella formulazione della busecca praticamente Perché la mia mamma dice sempre no ma io la cucino magra magra ma si può Ma sì ma poi a ben guardare ci sono altri alimenti più ricchi in grassi per esempio pensiamo allo zampone Anche lì è chiaro che lo zampone ci ricorda la tradizione pensiamo al cenone di Natale piuttosto che al cenone di Capodanno Zampone con chiaramente le lenticchie per cui simbologia del bonheur quindi della buona fortuna insomma Ebbene sì può essere anche quello inteso come un piatto da proporre però non posso dirti che possiamo fare tutte le feste a mangiarci lo zampone magari tre quattro volte quattro fette Lì davvero andremmo in un eccesso Bene invece fa chi magari differenzia le portate per cui magari sì lo zampone Magari a mezzanotte con le lenti se vogliamo fare il brindisi con questo auspicio ma va bene anche eventualmente il pesce Ecco nelle nostre tradizioni diciamo così lacustri briantè non esiste tanto la cultura del pesce Esiste più in altre regioni della nostra Italia però anche l'idea appunto di mangiare il pesce come può essere nell'Italia meridionale Meridionale o anche solamente nell'ambiente veneto L'ambiente veneto oppure nelle valli di Comacchio c'è proprio l'abitudine di mangiare Anche del pesce grasso se vogliamo però anche quello sono degli alimenti che comunque vanno comunque valorizzati Come dico sempre est modus in rebus cioè un po' di tutto Quindi non dobbiamo essere proprio così severi nel dire no questa cosa non si può mangiare È chiaro che come ho fatto l'esempio prima dello zampone non possiamo esagerare sempre con gli insaccati Non possiamo esagerare sempre con lo zampone o con il lardo Il lardo che sia della Val d'Aosta che sia di Colonnata che sia di altre zone dell'Italia Anche questo è un salume che tipicamente ci ricorda un po' l'alimentazione nel periodo natalizio Non dobbiamo però come dico sempre esagerare Tanta verdura, tanta verdura quindi abbiamo più facilità a introdurre le verdure nel periodo estivo Proprio perché abbiamo una stagionalità che ci porta a quello Però abbiamo anche le verdure invernali, abbiamo appunto queste fonti di fibra Che vanno comunque un po' a calmierare l'innalzamento della glicemia Se magari eccedo con alimenti ricchi magari in carboidrati per esempio il riso Beh ci saranno le lasagne che trionferanno Ma banalmente le lasagne hanno un indice glicemico come pasta della lasagna inferiore a quella del riso Quindi sdoganate le lasagne Sdoganiamole però attenzione dopo bisogna vedere quello che è il condimento Mi vengono in mente altri cibi tipicamente presenti sulle nostre tavole I pazienti tante volte mi dicono no ma dottore non mi tolga questo Natale Dico a Natale può fare quello che vuole Però nutrirci di patè, di foie gras dall'8 di dicembre fino al 6 di gennaio Chiaramente sarebbe troppo Quindi il provarlo, l'intenderlo quella volta come l'eccezione mi va benissimo Anzi lo assaporiamo meglio Sempre, come dico sempre, il troppo stoppia Per cui non vale la pena di esagerare E poi c'è il nostro cappone che non possiamo dimenticare Il cappone va bene assolutamente Se il cappone invece come dicevi tu prima te lo sdogano senza nessun problema Perché comunque è una carne che possiamo sicuramente introdurre L'anatra ha già una carne un pochettino più grassa Per cui il petto d'anatra piuttosto che queste altre, diciamo le cornie di questo periodo Possono essere un pochettino più difficili magari da introdurre con una certa metodicità Ci sono poi tutti i ripieni, i ripieni che si usano di questi, insomma in queste feste Sia per le carni ma anche per i tortellini Anche per i tortellini Perché ci sono le nostre mamme che a casa già stanno impassando e preparando Ma assolutamente sì, assolutamente sì Un ripieno leggero che va bene qual è? Ma per esempio ricotta e spinaci Per cui anche tante volte nelle diete io lo propongo i ravioli con ricotta e spinaci Ovviamente non ci mettiamo sopra magari il burro fuso Però magari li accompagniamo con dell'olio Oppure anche con dei sughi magari con i pomodori piuttosto che altri Con un sugo di rucola per esempio, un pesto di rucola Ci sono un po' tutte queste anche novità per esempio Ecco il pesto siamo abituati a vederlo solamente come il pesto fatto col basilico di tradizione ligure Però abbiamo anche delle ulteriori variazioni per esempio E quindi possono essere consigliate, spiziose, anche un'idea Sfiziose anche un po' innovative senza arrivare per forza ad essere esagerati Magari con le novità come per dire con la quinoa, col topinambur e via dicendo Però magari fare diciamo tesoro delle nostre tradizioni Che siano i pesci, che siano di carni E' chiaro che è da preferire la carne aviaria, la carne bianca Magari anche proprio per la ricorrenza di queste feste che ci sono Però va bene anche ovviamente quella volta anche la carne rossa Tornando invece al pesce, nel periodo delle feste magari anche crostacei Sì Insomma questo genere Ecco i crostacei Che cosa ci consigli? Hai detto bene perché dopo viene spontaneo l'abbinamento magari con il vino bianco Con lo champagne piuttosto che col prosecco o con i nostri vini spumanti E' chiaro che non è quasi da considerare come un pesce il crostaceo Cioè i miti, le mazzancolle così Sì, usiamoli come extra, come guarniture eccetera Non le userei come pesce Il pesce intendiamo il branzino, la platessa, il salmone banalmente Anche il dentice, piuttosto che abbiamo una miscellanea di pesci davvero molto 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 eterogenea E' chiaro che anche lì selezionare i pesci più magri è meglio per la nostra salute Quindi è vero che il capitone, l'anguilla piace ed è di tradizione e lo mangeremo Però è chiaro che non possiamo considerare come pesce principale l'anguilla o il salmone E ma c'è l'omega 3, è vero, l'omega 3 è presente nel salmone, è presente nelle sarde, è presente nel pesce azzurro Però è presente anche nelle noci banalmente Per cui magari abituiamoci anche a conoscere un po' gli alimenti come spesso facciamo Anzi quando vengo qui ti ringrazio che riusciamo a fare anche un po' questa azione diciamo sociale di conoscenza sul cibo Ecco abbiamo per esempio l'omega 3 nella frutta guscio Così come nella frutta guscio da ricordare per esempio le mandorle presentano un indice glicemico più contenuto Quindi potrebbero essere diciamo proposte anche ai pazienti diabetici Chi ha una ridotta tolleranza agli zuccheri piuttosto che il diabete mellito è vero e proprio Abbiamo l'ultimo minutino a disposizione Ovviamente non può mancare l'argomento dolce E certo E quindi che cosa facciamo? Cosa possiamo magari privilegiare? Cosa invece dimenticare? Panettone o pandoro direi che vanno bene entrambi Ovviamente il pandoro ha 420 calorie rispetto alle 350 del panettone semplice Non ovviamente col mascarpone o con altre guarniture Lo intenderei, lo proporrei quasi come merenda Quasi come spezza fame Quindi o magari come colazione Per cui è vero che non sono alimenti propriamente dietetici Però magari una colazione in questo periodo o una merenda col panettone va bene Se invece come verosimilmente accade lo vogliamo intendere come il dolce Dulcis in fundo che conclude le abbondanti libagioni Dobbiamo stare attenti di non esagerare Per cui il bis e il tris anche no Perché già abbiamo mangiato magari un pasto con 2500 calorie per non dire di più E un attimo metterci con due fette di panettone ancora quasi un altro migliaio di calorie È un po' troppo davvero Per cui dobbiamo stare un pochettino attenti Se facciamo anche la colazione la mattina dopo assolutamente no Esatto, dobbiamo stare un po' attenti E poi soprattutto, questo mi piace dirlo Compensare, compensare con un'abbondante idratazione Con tanta verdura, tanta frutta E anche con tanto movimento Per cui ovvio non posso mangiare, essere sattole Puoi andare a correre perché altrimenti rischio davvero delle conseguenze serie Però magari nell'economia di questi giorni di festa Introdurre anche qualche camminata Ben coperti a vedere magari le bellezze di Como Illuminata Però sicuramente fare un po' di attività fisica Un po' di movimento ci farà bene Quindi dopo tutti questi consigli indispensabili Marco, vicino a te io vedo Che c'è insomma questo folletto Più volte in questo periodo insomma che ci ha accompagnato fino al Natale Ne abbiamo parlato, sapete bene Ve lo ricordo ancora Ormai siamo al dunque anche con il Natale Questi folletti natalizi andranno a sostenere Acma Onlus Sulla pagina Facebook potrete raccogliere tutte le informazioni E l'associazione che approfondisce lo studio sulla malformazione degli arti Ovviamente tutto questo sostiene la nostra piccola Nicole Che come sapete ne abbiamo parlato a lungo Insomma sta dall'altra parte dell'oceano Per continuare il suo percorso molto importante Quindi acquistando in questo periodo natalizio Come dicevo andate sulla pagina Facebook E raccogliete tutte le informazioni E questi folletti natalizi non solo farete tanto Natale Ma farete anche del bene all'associazione Quindi Marco ti ringrazio per aver condiviso con noi questa informazione Assolutamente poi io sono medico per cui assolutamente sposo questa causa E mi sembra un'ottima iniziativa a cui aderire Bene io ringrazio Marco Missaglia come sempre per essere stato con noi Quindi buon Natale Assolutamente ci rivediamo prestissimo Grazie anche a voi rimanete lì tra pochissimo Io sono di nuovo qui vi aspetto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti